C'era qualcosa prima che esistesse il mondo? Secondo Sant'Agostino questa domanda non ha senso. Lui da filosofo e teologo riteneva che il mondo fosse stato creato da Dio, che nello stesso momento aveva creato anche il tempo. Quindi la domanda c'era qualcosa prima che esistesse il mondo non ha senso perché non c'era nessun prima, essendo che non esisteva proprio il tempo. Un'altra domanda che si fece a Agostino e che per noi potrebbe sembrare molto strana è questa. Dove sta il tempo? È strana perché siamo abituati a pensare al tempo come a un quando, non come a un dove, ma Sant'Agostino trova la sua risposta ed è questa. Il tempo è nell'anima, il passato sta nella memoria, il presente sta nell'attenzione e il futuro sta nell'attesa.